Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video su TummitGadget.com oggi andiamo a vedere uno zaino per computer, per laptop, per computer fino a 15.6 pollici della DJ innanzitutto ringraziamo l'azienda per averci mandato questo sample e anche per la loro disponibilità allora andiamo subito a vedere il prodotto di che cosa si tratta prima di tutto parliamo di uno zaino come dicevo da 15.6 pollici, quindi grande spazio anche per chi ha un 13 pollici questa qui è l'etichetta del prodotto, andiamo a vederla insieme perché ci sono delle caratteristiche tecniche principali che lo contraddistinguono allora non solo, chiaramente il primo indica la grandezza del computer, quindi 15.6 pollici, 15.6 e un'altra resistenza anche al peso, in pratica si contraddistingue per non soffrire il peso anche se andiamo a caricare totalmente lo zaino devo dire ha delle tracolle e soprattutto una maniglia superiore, molto ben fatta, molto resistente che ci permette di portare uno zaino a pieno carico senza rischiare di poter andare a rompere o di poter sforzare troppo la maniglia soprattutto la caratteristica più importante è che è resistente all'acqua è resistente all'acqua? Penso pure alla polvere, non la soffra, se è resistente all'acqua dovrebbe essere resistente anche alla polvere o a quant'altro, fango e altri materiali perché devo dire ha un materiale esterno davvero molto resistente non si graffia, è molto bello anche al tatto, poi ha questa texture, è questo grigio con questa texture nera che offre un design molto flessibile, secondo me questo zaino è adatto sia per un pubblico più giovanile quindi che vogliono portare con loro il computer, i libri perché possono andare non so anche a scuola ma anche per un pubblico più adulto che deve andare a lavoro, non è un zaino prettamente sportivo è una via di mezzo tra uno sportivo e anche una linea diciamo più normale tra virgolette la texture e la colorazione aiuta anche a renderlo più flessibile nell'utilizzo non è prettamente sportivo, non ha colori particolari ma cosa che non mi è piaciuta più di tanto, forse questa qui è l'unica pecca al rimprovero che posso fare all'azienda è la suddivisione delle tasche perché di tasche ne abbiamo tante, ampie, grandi, spaziose, resistenti, bei materiali all'interno però purtroppo non hanno tante divisioni piccole all'interno di questi tasconi quindi questa forse è un po' la pecca, ma dopo le andiamo a vedere insieme cominciamo con la parte posteriore dello zaino abbiamo questi due grandi dorsali che ci aiutano, sono imbottite e ci aiutano comunque a sostendere il peso a renderlo anche un po' più morbido dietro alla schiena ma soprattutto vanno a far traspirare la parte della schiena quando portiamo tanto lo zaino così come le tracolle, stessa cosa per le tracolle hanno questo materiale, questa retina è traspirante e soprattutto sono abbastanza imbottite quindi sono fatte molto bene una cosa che ritengo molto importante per chi soprattutto come noi per esempio facciamo un lavoro e portiamo molto zaino per computer, per tablet e per tanti altri accessori non solo lo andiamo a caricare ma soprattutto lo portiamo per tanto tempo anche per intere giornate e devo dire che questi qui sono elementi, caratteristiche molto buone degli zaini che apprezzo davvero tanto perché permettono di non far sudare la schiena permettono di non far sudare neanche le spalle a causa di tracolle con materiali plastici scatenti invece devo dire che questi qui sono materiali molto buoni anche e soprattutto l'esterno è dello stesso materiale con cui è composto tutto il resto dello zaino è molto resistente, non si graffia, non si rovina e non si neanche macchia con liquidi che potrebbero poi andare a macchiare altri zaini devo dire che resiste anche a questo andiamo sulla parte laterale, troviamo due grandi, sia sulla parte sinistra sia sulla parte destra due grandi retine, tasche, retine molto comodo per mettere bottigliette d'acqua oppure anche altri snack o accessori, comunque cose che possiamo prendere al volo se siamo in viaggio, siamo in giro, possiamo prendere al volo e mettiamo lì dentro parte superiore invece si contraddistingue per questa grande maniglione maniglione che non solo è rinforzato con questa gomma, devo dire facilita la presa e devo dire favorisce molto l'ergonomia di questa maniglia, di questa presa ma è resistente perché si contraddistingue per avere un cavo interamente in metallo al suo interno rivestito da un tubo in plastica abbastanza rigida, trasparente e degli attacchi in metallo che vanno direttamente cuciti allo zaino che vanno ad aiutare la cinghia in corda al suo interno quindi anziché avere la classica maniglia che è fatta solo di corda o di tessuto come troviamo sugli altri zaini abbiamo questa maniglia molto molto resistente che con questi attacchi in metallo ci permette di poter caricare lo zaino a pieno e non andare a rischiare di rompere la manigliona principale che poi è la prima un po' che si va sempre a rompere gli zaini perché quando lo carichiamo tanto, certe volte non ce ne accorgiamo carichiamo, mettiamo roba e poi la andiamo a prendere dalla maniglia principale è solitamente una maniglia cucita solo alla parte superiore e si va a rompere facilmente quindi questi qui un plus che devo dire di questo zaino andiamo sulla parte invece a vedere la parte interna dello zaino prima tasca che troviamo è quella del computer tasca del computer spaziosa molto bello anche il materiale interno devo dire imbottite tutte le divisioni le varie divisioni che i vari compartimenti dello zaino sono tutti molto imbottiti quindi buona come protezione per i prodotti che poi mettiamo dentro soprattutto per quando mettiamo macchine telefotografiche computer o tablet all'interno di questa tascona ci va devo dire quasi preciso anche il mio MacBook da 15 quindi parliamo di una tasca abbastanza ampia come potete vedere c'è spazio anche per metterci qualcos'altro anche qui c'è altro spazio tasca è davvero molto ampia questo zaino seconda tasca invece che possiamo andare ad aprire da questa parte eccola qui seconda tasca è la seconda tasca ancora più grande questa qui è quella che diciamo che si va ad ampliare che è quella che vediamo che poi si va di più ad allargare anche per quanto riguarda la parte esterna e si va ad allargare è quella più profonda ecco forse l'unica rimprovera che posso fare di questo zaino è che non ha molte taschine non ha molti compartimenti interni e suddivisioni interne che se siete come me o come noi chi fa un lavoro come il nostro che porta tanti tanti gadget tanti accessori con sé cuffie, microfoni, cover, batteri cover e batterie da esterne diciamo che molte volte sono molto molto utili sono quasi necessari tanti piccoli compartimenti per suddividere poi i prodotti che portiamo con noi comunque alla base troviamo questo piccolo divisorio che purtroppo non è attaccato però potrebbe essere utile per dividere un po' alla base i prodotti che portiamo con noi e poi c'è questo tascone molto molto profondo molto molto grande poi la cosa buona è che comunque lo zaino si apre fino quasi fino in fondo come potete vedere ci rimane poco di spazio e quindi offre una buona apertura per mettere i prodotti e anche soprattutto per toglierli devo dire che qui ci entrerebbe tranquillamente anche una reflex una videocamera e non avremmo alcun tipo di problema nel portarlo con noi insieme al cavalletto prossima tasca invece è quella più esterna troviamo una tasca con una divisione di tre portapenne due taschine più piccole e una tasca più grande anche in questo caso ecco forse secondo me sarebbe stato il caso di poter dato che c'è stata poi una divisione quindi in taschine di poter andare a intondurre delle piccole chiusure anche con dello strappo dei bottoni sarebbe potuto essere una soluzione molto più comoda rispetto a delle tasche che sono sì suddivisibili che hanno una loro suddivisione però sono aperte questo perché molto volte lo zaino potrebbe essere messo a testa in giù potrebbe essere ribaltato quando siamo in viaggio e potrebbe essere un peccato perché fuoriescono tutti gli accessori che abbiamo messo nelle varie tasche comunque uno zaino che offre buoni materiali ottimi materiali devo dire molto resistenti soprattutto delle tasche molto molto ampie come vedete qui c'è un po' tutto lo spazio che vi potrebbe essere utile per mettere libri tablet e penne qualsiasi tipo di cosa qui c'è una taschina una bella tasca tutti i materiali sono internamente sono rivestiti in materiale sintetico quindi molto buono perché non solo è resistente all'acqua se vi dovesse cascare non so portate un succo di frutta una bottiglia d'acqua vi si dovesse aprire questi sono materiali che mantengono quasi stagni sono indipendenti l'una all'altra quindi non rischiate e sono soprattutto impermeabili anche all'interno quindi non rischiate che cadendovi un po' di acqua o comunque facendo fuoriuscire un liquido all'interno di una tasca non vada a compromettere anche le tasche ai lati le tasche le tasche laterali questa qui è una cosa davvero molto buona che apprezzo perché comunque possiamo suddividere i prodotti gli oggetti che portiamo con noi in queste tante tasche che offre lo zaino e non rischiamo di andare a rovinare un prodotto con un altro oppure andarlo non so dover mettere la bottiglia d'acqua con una batteria ricaricabile con il tablet nella parte invece anteriore quella più avanti quella più esterna troviamo il taschino questi taschini io li adoro li amo perché sono quei taschini che per me secondo me sono i più comodi negli zaini sono molto comodi sono molto utili soprattutto veloci da poter mettere non so no snack la batteria ricaricabile per telefono che dobbiamo prendere al volo la prendiamo e la richiudiamo non dobbiamo stare a aprire tutto lo zaino tutte le chiusure sono come potete vedere nascoste quindi sono ricoperte da questo di questo tessuto impermeabile e devo dire sono fatte molto bene perché ci permette di non fare entrare l'acqua dato che è resistente all'acqua e sicuramente anche lavora con questo tipo di chiusura permette con l'acqua diretta di non fare di non fare entrare i liquidi o l'acqua all'interno delle tasche quindi molto molto buona e soprattutto offre una copertura per le cerniere cosa che molti zaini non lo fanno e questo qui vi devo dire potrebbe essere un gran plus di questo zaino e un problema che potreste trovare negli zaini che non offrono questo tipo di copertura delle chiusure perché li si vanno a rovinare con il tempo molte volte con l'acqua si vanno a ossidare soprattutto con l'acqua di mare se lo portate con voi anche in zone di mare molte volte se non avete una copertura del genere sulle chiusure vi si possono andare a ossidare a rovinare con il tempo e quindi poi si bloccheranno le dovreste poi cambiare si vanno comunque a deteriorare con il tempo quindi un prodotto che mi è piaciuto su diversi dati su diversi aspetti molto comodo soprattutto quando si mette in spalla rimane molto compatto anche se lo andiamo a caricare e si va ad allargare lo zaino comunque non ha una linea molto ampia molto lunga che potrebbe essere scomoda per i lunghi viaggi ha una linea che riesce a rimanere compatto anche quando si carica tanto lo zaino riesce a rimanere sulle spalle riesce a rimanere compatto attaccato alla schiena anche se non offre la cinghia che si va a legare sulla parte davanti diciamo del busto che quello lì potrebbe andare a scaricare un po' il peso però devo dire rimane davvero molto bene sulla schiena rimane molto compatto non fa sentire tanto è ben bilanciato il peso all'interno quindi non si fa sentire quando lo caricate molto poi offre buoni materiali ha un buon rapporto con il prezzo parliamo di 25 euro su come set price 39,90 euro come prezzo ufficiale di vendita che potete trovarlo sul sito a DJ e chiaramente poi vi metterò in descrizione sotto al video tutti i link dove poter acquistare questo prodotto comunque il sit price si aggira intorno tra i 25 e i 30 euro diciamo un 10 euro di differenza 15 euro di differenza tra quello ufficiale che potete trovare sullo store di a DJ e quello che potete trovare online sulle altre store che poi ormai oggi ben conoscete quindi uno zaino che posso consigliare sia a un pubblico giovanile che sia a un pubblico adulto perché ha una colorazione flessibile è bella elegante resistente come maniglione un buon rapporto quale da prezzo unica pecca è che non ha divisioni in taschini interni quindi uno zaino che ve lo consiglio come dicevo per un pubblico sia giovanile che per adulti è molto bello ha una linea abbastanza flessibile buoni materiali resistente all'acqua per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci scrivetelo sotto nei commenti se avete qualche dubbio qualche domanda da farci se vi è piaciuto il video e spero che vi sia piaciuto spero che vi sia stato utile per un po' descrivervi questo prodotto e per farvi avere un'idea della qualità dello zaino della DJ chiaramente se vi è piaciuto mettetevi un like continuate a iscrivervi al Times Gadget al canale di Youtube continuate anche a iscrivervi alla pagina di timesgadget.com direttamente sul sito internet che portiamo sempre avanti ma per questo è tutto un saluto a tutti ringrazio la DJ che ci ha mandato questo sample in primis e per essere stata davvero molto molto disponibile un saluto a tutti da Times Gadget e per Giorgio Grazie a tutti Grazie a tutti